Sul luogo della tragedia immediatamente sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone con uomini e mezzi. L'ingegnere Maria Paluccio è vice direttore del comando di Crotone. Che scene vi siete trovati davanti? Ci ha chiamato subito la squadra che è arrivata sul posto a seguito della chiamata della Capitaneria di Porto. Hanno sentito un forte boato e vedevano delle fiamme provenienti da un'imbarcazione là sul molo del Porto Nuovo. Sono arrivati e hanno chiamato subito funzionario e essendo in presenza anche il comandante siamo andati sul posto io, il comandante e l'ingegnere Bernardo. Arrivati lì c'era un incendio sotto coperta in prossimità del serbatoio di gasolio. Sull'imbarcazione c'erano anche presenti dei container quindi per procedere con le attività di estinzione la squadra WF ha mandato un autogru e si è proceduto anche alla rimozione dei container sulla banchina antistante dell'imbarcazione. A cosa è dovuta l'esplosione? L'esplosione, ancora sono in corso di accertamento le cause. Si ipotizza che stessero facendo lavorazioni a caldo per il materiale rinvenuto che comunque l'esplosione è partita dall'interno verso l'esterno e ha generato successivamente l'incendio. Come ha già detto il comandante dei Vigili del Fuoco, lavori che vanno autorizzati. Chi deve autorizzare questi lavori ed erano stati autorizzati? Stanno verificando anche queste tipologie di autorizzazioni da parte della Capitaneria del Porto. Ancora non abbiamo materiale sufficiente per valutare queste cose. Che cosa le lascia questa tragedia? È stato un impatto forte. Sono dispiaciuta per le perdite degli operatori che hanno perso la vita molto giovani. Niente, bisogna sensibilizzare ed essere più accorti su queste tipologie di attività. Solitamente questi lavori si fanno quando i mezzi sono ormeggiati per lavori di manutenzione e anche in questo caso si è trattato di questo? Sì, il mezzo era in sosta tecnica dal 26 agosto, quindi era fermo proprio per manutenzione di avarie motore. Quindi stavano effettuando, era in sosta tecnica. Altre ulteriori informazioni per il momento non ne abbiamo.